Il ferro è un elemento essenziale per la vita di tutti gli organismi, ciascuno dei quali ha sviluppato una propria strategia di approvvigionamento basata su proteine dalle architetture molecolari molto affascinanti. Al centro di risonanze magnetiche dell'Università di Firenze ci occupiamo di determinare le strutture di queste proteine e attraverso la loro visualizzazione di comprenderne il meccanismo di funzionamento.